Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento naturalmente tutto dedicato al calciomercato, tanti temi da analizzare, la Juve che cerca una punta oltre al difensore perché sì, va sostituito Bremer, la Juve cercherà un difensore probabilmente in prestito con diritto di riscatto questo identikit su cui stanno lavorando un'operazione low cost di completamento, ma deve prendere un attaccante perché Midi che desaparecido da mesi, non dà garanzie, non si sa quando tornerà, se e come tornerà e soprattutto che affidabilità può garantire, ma soprattutto perché la Juve se non se ne avrà, vi ci non segna nessuno, quindi la priorità della Juve è un attaccante, adesso vi racconto qual è l'ultima idea dei bianconeri, ma ci sono novità importanti anche in casa Inter e in casa Roma, dirigenziali ma non solo, quindi mettetevi comodi naturalmente. Partiamo dalla Juve perché la Juve cerca un attaccante, l'idea che sta prendendo quota, un nome che la Juve segue, che piace e che ha apprezzato è quello di Lorenzo Lucca, giovane, classe 2000, torinese Guedi Moncaglieri, simpatizzante della Juve, anche se poi ufficialmente nelle interviste non lo dichiara, ma sappiamo che insomma anche la PlayStation prende sempre la Juve quando gioca in ritiro con i suoi compagni, ma questa è una cosa simpatica per raccontare come per Lucca sarebbe un sogno quello di indossare la maglia della vecchia signora. La Juve è interessata, ha caratteristiche importanti, una struttura fisica, due metri e uno, quindi è un giocatore di struttura che ha potenza, che ha caratteristiche fisiche di gioco che mancano oggi nella rosa della Juve, dove la Juve ha solo Vlaovic. Vlaovic del quale al momento non ci sono novità, è vero il suo agente Darko Ristic è a Torino, ma è a Torino da qualche giorno, era a vedere Juve Stoccarda, ha anche portato benissimo, si è fermato qualche giorno, ha visto Vlaovic che gli ha rinnovato la procura, quindi ovviamente Ristic continuerà a seguire Vlaovic e sarà colui che poi dovrà decretare il futuro dell'attaccante serbo o rinnovando il contratto, spalmando l'ingaggio nei prossimi mesi o eventualmente poi spostando la prossima estate. Sono queste le strade che si pongono dinanti al futuro di Dujan Vlaovic, ma al momento non vanno registrate novità, tradotto non c'è stato il summit con Giuntoli, per intenderci, sul possibile rinnovo. La Juve studia Lorenzo Lucca, c'è stato un incontro due settimane fa con Claudio Vagheggio, intermediario, molto vicino, quasi un dirigente, lui che è un intermediario, un agente vicinissimo a Udinese, l'uomo di fiducia da 15 anni dei Pozzo, che ha ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli, sono molto amici, Giuntoli ha pescato spesso e volentieri dall'udinese quando era dirigente del Napoli, potrebbe pescare anche per la Juve Lorenzo Lucca, ovviamente non come sostituto di Vlaovic, ma come attaccante per la panchina, cioè fuori Milik, o comunque Milik non dà garanzie dentro Lucca, questa è un'idea che in questo momento solletica un po' in casa bianconera, non è facile, l'udinese preferirebbe vendere Lucca a fine stagione, ma Lucca gioca e non gioca a Udine, non è che ha questo feeling straordinario con Rojanic, dov'è nell'intoccabile, anche se adesso è infortunato, c'è Davis, c'è Brenner, rientra Sanchez, c'è anche il giovane in che è bravo, Lucca gioca e non gioca, è la sensazione che se ci sarà una buona possibilità possa anche andare via la Juve, ha messo gli occhi su Lorenzo, Lucca può essere un'idea interessante per potenziare l'attacco magari già a gennaio, quindi occhio alla pista Lucca-Juve, non siamo ancora a livello di offerte trattative, l'idea c'è, è seguito, è apprezzato, è nel casting della Juve, vi raccontiamo ovviamente questa cosa, così come vi raccontiamo che su Vlaovic potrebbe esserci novità a fine novembre, inizio dicembre, non adesso, quindi questo blitz torinese di Ristic è servito più per motivi di gestione dell'attaccante e non di trattativa con la Juve. Arriviamo adesso alla Roma, in casa Roma c'è un caso, secondo me, inspiegabile, Matt Summers che non gioca mai, è una volta l'influenza, è una volta in ritardo di condizione, ridendo e scherzando, sono quasi due mesi che uno che è uno dei difensori più forti degli ultimi vent'anni a livello internazionale, uno che ha vinto il mondiale, ha vinto tutto in Germania, faceva la finale di Champions il primo giugno, quindi neppure troppo tempo fa, insomma, luglio, agosto, settembre, ottobre, quattro mesi fa, da titolare, dopo aver fatto una grandissima Champions, proprio che si è toccato, non gioca manco in Europa lì, quando la Roma fa turnover, allora, qualcuno ci deve dare delle spiegazioni, la Roma perché ha preso Hummels, se poi non lo fa mai giocare? Hummels mi risulta non sia affatto contento, quindi attenzione al possibile caso Hummels, Juric non lo fa mai giocare, non è che la difesa della Roma è impermeabile, c'è qualcosa che non torna, l'aveva voluto fortemente De Rossi, De Rossi si era imposto perché la lina Sokolu dopo Hermoso considerava chiuso il mercato, gli demoghi Solfighi si impose De Rossi, forse l'ha voluto De Rossi, Juric non lo vuole, i dirigenti che sono adesso presenti della Roma non lo vogliono, però è uno spreco, e considerate le difficoltà difensive della Roma, uno come Hummels che non abbia giocato a fine ottobre neanche un minuto, proprio non dico che debba giocare sempre a titolare, per carità, ma chi non giochi mai, 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 secondo me è inconcepibile, è inspiegabile, ed è uno dei tanti problemi della Roma, che spera di aggiustare un po' le cose a livello dirigenziale con un nuovo CEO, con un nuovo amministratore delegato, il nome che piace di più è un italiano, finalmente, che troppi stranieri, serve un dirigente italiano che conosca il nostro calcio, è un amministrativo in questo caso, quindi poi servirebbe anche una figura, diciamo, tecnica dal punto di vista dirigenziale per l'area sportiva, ma dal punto di vista gestionale, Alessandro Antonello, ex uomo importante come manager a livello italiano di Puma, piuttosto che... e poi è stato CEO, ed è tuttora CEO dell'Inter dopo l'esperienza in Puma, quindi Alessandro Antonello è una figura da un punto di vista manageriale, discorso stadio, discorso merchandising, discorso marketing, discorso sponsor, sicuramente importante, anche molto introdotta in Lega, anche a livello di ECA, UEFA, quindi è sicuramente un innesto importante, politicamente, strutturalmente, un dirigente italiano, un manager, che alla Roma oggi manca. Poi bisognerebbe per la Roma anche potenziare il discorso dell'area tecnica, ma quello è un tema differente, è un discorso che verrà affrontato più avanti, perché oggi Ghisolfi rappresenta comunque un grosso punto di domanda per la Roma, le poche intuizioni che ha avuto sul mercato, le F, eccetera, sono state costose e non proficue redditizie al momento, ma lì è un tema che verrà affrontato probabilmente da marzo in poi, il mercato di gennaio sicuramente lo fa Ghisolfi, un innesto invece, da un punto di vista manageriale, può arrivare subito, con Alessandro Antonello individuato. Attenzione, perché l'Inter perde pezzi, o meglio, l'Inter OCTRI inizia a intervenire e a ristrutturare la società, a sua immagine e somiglianza, quindi se va via Antonello, ed è una situazione possibile, andranno via sicuramente altre due figure dirigenziali importanti, responsabile marketing, Luca Danovaro, figura molto vicino a Suning e a Steven Zhang, e quindi destinata a questo punto a salutare la compagnia, ma un'altra figura che dirà sicuramente addio all'Inter, tra l'altro un ex Roma, ex Nike, è Matteo Pedinotti, che è responsabile della comunicazione, scelto e voluto da Suning, fortemente legato e vicino a Steven Zhang, e quindi già in discussione da mesi, il suo destino è segnato già ad agosto, ci sono stati dei colloqui in queste settimane, con due possibili candidati a diventare un nuovo responsabile della comunicazione dell'Inter, un'ex figura importante che ha già lavorato per grandi club, uno che non ha lavorato per grandi club, ma è una figura che nel mondo della comunicazione è sicuramente molto nota, molto conosciuta e molto importante. Poi nei prossimi giorni parleremo anche di chi può andare quando le cose entreranno eventualmente nel vivo e si surriscalderanno. Tornando al concreto, è un Inter che cambia pelle, Marotta è presidente, bisogna capire cosa succede con vaccina ausilio, che come Marotta sono in scadenza nel 2027, ma OCTRI potrebbe anche voler mettere anche a livello di area tecnica delle figure di propria fiducia, scelte da il fondo e quindi direttamente, se vogliamo, legate al nuovo management e questo potrebbe andare a cambiare un pochino di scenari. Vedremo cosa accadrà, certamente c'è la sensazione che l'Inter di OCTRI pian piano prenderà forma e ci saranno volti nuovi rispetto a quelli attuali, quindi l'Inter cambierà pelle anche a livello dirigenziale, già sta iniziando a farlo e probabilmente i cambi non saranno solo quelli che vi ho raccontato oggi, ma nei prossimi mesi, da qui alla prossima stagione ci saranno altre novità. Cosa ne pensate? Fa bene OCTRI a ristrutturare l'Inter o avreste lasciato tutto com'era, la Roma che prende forma, è il caso Hummels, ma la possibile svolta societaria con l'arrivo di Antonello, ditemi la vostra, qui pareri, domande, considerazioni nei commenti, in alto a destra la campagna da attivare per non perdervi neanche un video, se vi è piaciuto mettete il like, condividetelo su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, chat, Telegram, chat di Whatsapp, fate dei clip, soprattutto iscrivetevi al canale, gratis, non costa nulla, perdete un secondo, fate click, più siamo meglio è, più ci divertiamo e soprattutto voglio sapere la vostra, anche su Lucca, come possibile rinforzo per la Juve, può essere l'uomo giusto per l'attacco bianco nero, ditemi la vostra, vi aspetto, a domani, grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, ciao!